Noi facciamo narrativa, stiamo espandendo un pochino le collane, quindi facciamo narrativa che va dalla narrativa contemporanea al fantasy, al giallo noir, alla saggistica. Lavoriamo stabilmente in realtà due persone, più una serie di collaborazioni sparse in tutta Italia che raggiunge la quindicina di persone. Qualche autore più che altro di punta, che è nato con noi tipo Vincenzo Maestro, che è il detentore del blog Distruggere i Sogni Altui, pubblicherà tra poco un altro editorio molto più importante e facciamo ovviamente i nostri auguri, ma è iniziato con noi ed è uno dei nostri punti di forza, più tutti gli autori che sono poi qua con noi e ci aiutano, ci supportano e promuovono la nostra marca. Noi abbiamo un distributore che si chiama InterScienze Direct Book, che coopera con Fastbook a livello di distribuzione nazionale, più serve tutte le catene da Feltrinelli a IBS e via dicendo. Progetti per il futuro stiamo confezionando un concorso letterario in collaborazione con un'importante network radiofonica italiana che non posso ancora dire qual è e quindi coopererà su questo discorso il concorso, faremo una previazione comune che speriamo porti l'ustro un pochino al settore. Noi abbiamo un'importante network radiofonica italiana,